Bentornati! Nel video di oggi vediamo perché si usa il La per accordare, perché si dà il La e non un'altra nota, il Do ad esempio, perché è l'oboe a dare il La a tutta l'orchestra, ma soprattutto vedremo una breve storia dell'accordatura e di tutte quelle teorie spesso esoterico-complottistiche che ci sono dietro. Oggi parliamo dell'accordatura 440 contro l'accordatura a 432. Allora, se non siete dei musicisti o se non avete un orecchio particolarmente allenato, forse potreste non sentire alcune differenze tra questa nota e questa nota. Potreste sentirle molto simili, quasi identiche, in un certo senso quasi identiche lo sono, ma non sono identiche, ovviamente. Però, anche se non siete dei musicisti, probabilmente sentirete abbastanza agevolmente la differenza tra questa nota e questa nota. Ebbene, se vi dicessi che sono la stessa nota... No, attenzione, non ho detto che sono uguali, ma che sono la stessa nota. No, non sono impazzito e vi assicuro che c'è stato un lungo periodo di tempo in cui, in diverse parti d'Europa, questa nota aveva lo stesso nome di questa nota. Facciamo un po' di chiarezza. Allora, fino alla prima metà dell'Ottocento non c'era un criterio universale e scientifico per definire che cosa fosse il La, ad esempio. Ci si accordava ad orecchio, e l'orecchio umano, in quanto umano, può anche sbagliare, quindi, oppure ci si accordava, spesso e volentieri, con l'organo della Chiesa. Ma non è che tutti gli organi d'Europa fossero accordati nella stessa maniera, anzi, c'era un range di accordatura molto diverso, qualcuna più alta e qualcuna più bassa. Allora, e proprio di questo, ho fatto un video recentemente in cui ho fatto ascoltare un pezzettino della Toccata e Fughe Remiglione di Bach, e uno di voi, evidentemente con un orecchio molto allenato, mi ha detto ma perché è stata trasportata a un semitono sopra? In realtà non era trasportata, ma era eseguita con un organo accordato particolarmente alto e quindi all'orecchio effettivamente risultava come se fosse in un'altra tonalità. Tanto era alta questa accordatura dell'organo. Allora, prima di proseguire, chiariamo una cosa che è scontata per i musicisti, ma potrebbe non esserlo per i non musicisti. Noi parliamo di accordare il LA, ma non è che accordiamo solo il LA e basta naturalmente. Il LA è la prima nota che accordiamo e poi accordiamo tutte le altre in relazione a come abbiamo accordato quel LA. Ecco, questo spero che sia chiaro per tutti. Allora, partiamo dall'inizio. Perché si dà il LA e non il DO, ad esempio? Si dà il LA perché quel LA che viene dato dall'Oboe, e adesso vedremo anche perché lo dà l'Oboe, c'è il LA che c'è sul secondo spazio del rigo musicale, è una nota che più o meno ha tutta l'orchestra. Cioè, voi sapete che in orchestra sono gli strumenti che suonano molto cutti e gli strumenti che suonano molto bassi, ma quella nota più o meno ce l'hanno tutti. Non solo per i violini, quindi per una buona parte di tutta la sessione di archi, addirittura ce l'hanno come corda vuota, proprio a quell'ottava. Quindi diciamo che viene particolarmente comodo un po' a tutta l'orchestra. Ora, perché è l'Oboe a dare il LA? Perché l'Oboe è uno degli strumenti più difficili da intonare. E quindi proprio per questo si preferisce che sia l'Oboe a prendere la nota e quando l'Oboe l'ha presa e si è, come dire, stabilizzato su quella nota, tutto il resto dell'orchestra si accorderà sul LA dell'Oboe. Ecco, vediamo cosa succede in un concerto normale. L'Oboe prende il LA, lo dà al primo violino, che è quello che si è alzato, la donna che si è alzata, la quale a sua volta darà il LA agli archi e di conseguenza a tutta l'orchestra. Poi tenete presente che in molti casi l'accordatura che viene fatta sul palco è poco più di un profumo perché in realtà l'accordatura seria, fine, si dice, è già stata fatta prima di salire sul palco. Poi tecnicamente l'Oboe darà bianche si bemolle per i suoni di traspositori e per gli ottoni, ma insomma comunque oggi limitiamoci veramente alle nozioni di base. Per capire le nozioni di base dobbiamo però prima capire che cosa vuol dire accordare a 440 Hz. Lo sapete, presumibilmente, il suono è vibrazione. 440 Hz vuol dire che quel suono, quella nota, è emessa con 440 vibrazioni in un secondo che sono talmente tante, talmente strette tra di loro, che al nostro orecchio risultano come una nota fissa, ma in realtà se l'andassimo a scopore quella non è una nota fissa, ma è un insieme di 440 vibrazioni. Se però 440 vibrazioni in un secondo ovviamente non sono percepibili come vibrazioni, ma appunto a noi sembra un unico suono, se suoniamo una nota molto grave, tipo questa, sentite un po' le vibrazioni, le sentite? Perché le sentite? Perché sono un numero molto molto inferiore a quelle 440, quindi essendo molte meno vibrazioni in un secondo, l'orecchio comincia a percepirle, comincia a percepire che il suono è fatto da un certo numero di vibrazioni. Quindi dicevo, più o meno fino alla metà dell'Ottocento ogni orchestra si accordava un po' come voleva e anche quando si è trovato il modo di misurare la frequenza, non c'era un modo né una legge che valesse per tutti per dire il là si prende a questa frequenza. Perché quelle che vi ho fatto ascoltare all'inizio, le due note, cioè questa qua a 440 e questa qua a 432 sono sempre due là, però sono due là diversi. È un po' come dire, immaginate come un colore, nel verde c'è il colore verde, però il verde può essere verde pisello, verde chiaro, verde smeraldo, eccetera eccetera. Ovviamente anche secoli fa c'era il diapason esattamente come ce l'abbiamo oggi, però non erano dei diapason uniformati a 440, per cui anche questi diapason variavano spesso e quindi magari qualcuno era a 423, qualcuno era a 415 e fondamentalmente ogni città, ogni luogo e forse ogni orchestra si accordava un po' come voleva. Allora è da parecchio tempo che se girate un po' su internet, anche su YouTube li trovate, ci sono una serie di video che tendono a esaltare l'accordare, il là, e quindi tutto lo strumento, tutta la scala musicale naturalmente, non a 440 come si fa oggi per convenzione internazionale, ma a 432. La ragione sarebbe che questo 432 sarebbe un multiplo di una serie di vibrazioni dell'universo, del nostro corpo, del nostro cervello e così via. Quindi capite bene che andiamo in un settore che non è, come dire, suffragabile con prove scientifiche. In più, senza entrare nel dettaglio, che 432 sia un multiplo di queste frequenze dell'universo, ma, insomma, qualcuno dice di sì e qualcuno dice di no. E quindi i sostenitori del 432 dicono che, se hanno 432, come dire, in armonia con le frequenze dell'universo, la musica andrebbe accordata a 432 perché avrebbe un effetto benefico e rilassante, in certi casi addirittura curativo, sul nostro corpo. E per supportare questa loro teoria, che, lo ribadisco, non ha una base scientifica documentata, dicono che tra i grandi casi come Mozart, come Verdi e come Pink Floyd accordavano a 432. Ed è questa una delle ragioni della grandezza della loro musica. E in realtà sono tre fondamentalmente bugie che si possono facilmente smontare. Allora, Mozart non accordava sicuramente a 440 perché per i tempi era una accordatura molto alta, ma neanche a 432. Sono stati trovati diversi diaposoli che usava Mozart e sono dei diaposoli che sono intorno ai 422, 423. In certi casi si scende addirittura a 415. Cioè, voi capite che nel momento in cui si sceglie una frequenza perché si ritiene che quella frequenza sia un numero, diciamo, magico, perché è un multiplo di... E il numero resta è quello. Cioè, se il numero, diciamo, magico è 432, 432 non è 431, non è 433, è 432. Per cui, siccome è storicamente accertato che Mozart invece suonava con diapason decisamente più basso, ripeto, intorno ai 422, già la questione Mozart, insomma, lascia un po' il tempo che trova. Stesso discorso per Verdi. È vero che ci sono delle lettere di Verdi in cui lui raccomanda di utilizzare i 432, ma più che altro lo raccomanda per una questione di uniformità, perché lui dice non ha molto senso che quella nota sia un là a Milano e a Vienna diventi un sì bemolle. Se è un là, deve essere un là in tutta Europa e in tutto il mondo e la cosa è assolutamente sensata, ma non è che lui avesse una particolare predilezione per i 432, è vero che lui stesso, per esempio, il suo requiem chiedeva di accordarlo a 435. Allora, in generale, mettiamola così, la cordatura a 440 è la cordatura più brillante, più diretta e, dicono, più eccitante, mentre la cordatura a 432 sarebbe, appunto, più tranquillizzante. Attenzione a una cosa, possiamo parlare della cordatura non della musica che ci suoniamo sopra, cioè il concetto è lo stesso identico pezzo a 432 dovrebbe avere un effetto benefico sul corpo e lo stesso identico pezzo a 440 dovrebbe avere, invece, un effetto eccitante e generalmente disturbante sul nostro corpo, sulla nostra psico. E anche la teoria che i Pink Floyd abbia registrato a 432 è facilmente smontabile perché può essere successo che magari qualche pezzo l'abbiano accordato a 432, io non l'escludo, ma se andate ad ascoltare i loro lavori principali sentirete che è accordato a 440, insomma, quindi non... Sapete, i Pink Floyd, di tutta la parte legata alla psichedelia, alla mente che deve volare, eccetera eccetera, secondo me si è preso un po' la palla al balzo per dire questa cosa che però non è un dato storico assolutamente. Ripeto, può darsi che magari qualche pezzo l'abbiano, ci sono stati a 432, ma non era assolutamente un loro modo superandi. E allora qualcuno mi dirà, ci sono, c'erano cantanti tipo Pavarotti, Domingo e Lattebaldi che tenevano particolarmente ad avere il là a 432, quindi un pochettino più basso di quello che si usa oggi. Sì, questa cosa è vera, però tenete presente che in molti casi i cantanti fanno queste scelte sia per un presunto rispetto a perverdi che però, come vi ho spiegato, non è che su questa cosa ne facesse una malattia, sia perché in certi casi richiedono dei diapason addirittura più bassi di 432, perché? Perché banalmente per loro è meno faticoso soprattutto sugli acuti. Quindi in sostanza nel corso della storia il là è variato e non è sempre stato uguale. Ancora oggi si tende a suonare la musica barocca con un là molto basso a circa 415, 420, a suonare la musica classica, quindi quella proprio del periodo classico diciamo del 1700 fino a prima età dell'800 a 432 poi man mano ad aumentare fino a 440 che è come dire l'indicazione standard che è stata presa per convenzione da poco tempo, dagli anni 50 quindi da una settantina d'anni. Tenete presente un'altra cosa che mentre paesi come Italia e Francia avevano un diapason più basso appunto intorno ai 423 indicativamente oltre 430 oltre 32 ma sicuramente non il 440 fino a un secolo fa indicativamente alcuni paesi come la Gran Bretagna ma soprattutto la Germania nazista avevano spinto perché tutto il mondo adottasse il 440 che ripeto secondo questa teoria dice che è una frequenza che eccita e che disturba il corpo e la mente quindi ovviamente i complottisti cosa ci hanno visto dietro il complotto nazista per dominare il mondo attraverso la musica date voi il peso che ritenete a questa cosa la mia posizione credo che sia abbastanza evidente quello che vi posso dire è chiaro che c'è una differenza tra questo là a 440 e questo a 432 se io li sento sento che uno è più alto e uno è più basso ma se dovessi dirvi che ascolto un pezzo accordato a 440 e mi eccita e lo stesso pezzo accordato a 432 mi rilassa no francamente no sarà il mio limite ma ancorché ovviamente percepisca la differenza fra le due note non percepisco nessuna differenza sull'effetto che queste accordature hanno anche perché comunque dipende molto dal pezzo che stiamo ascoltando cioè voglio dire se il pezzo che ascolto è un pezzo di per sé compositivamente eccitante hai voglia di mettere la parte a 32 e viceversa secondo me però tanti esponenti in particolare della new age hanno questa teoria che non dico che non concordo rispetto sempre le idee di tutti semplicemente per me è una differenza che non mi crea nessun tipo di né di vantaggio né di svantaggio non la trovo né positiva né negativa ancorché sicuramente a 440 sia più brillante questo è un dato oggettivo ma da questo a dire che questo essere più brillante abbia degli effetti negativi sul corpo e sulla mente beh mi sembra che ce ne passi bene spero di aver chiarito un po' la questione 440 432 scrivete nei commenti cosa ne pensate lascio quindi decidere a voi se preferite il 440 il 432 o se come nel mio caso fondamentalmente non vi cambia la vita alla prossima non vi cambia la vita non vi cambia la vita non vi cambia la vita